ciao sono Ivan di oldstore.it sono qui adesso per presentarti questo lettore cd un caricatore un pioneer pd m426 è un lettore cd di fine anni 90 del 1997 per la precisione che aveva la possibilità di poter immagazzinare 6 cd questo era un case standard che era utilizzato anche da altre marche come denon e philips per esempio e che poteva essere utilizzato anche in vettura nel caricatore da auto quindi lo si poteva inserire nel lettore da casa poi estrarre comodamente inserirlo nel lettore da macchina ecco questo lettore vede una meccanica rovesciata quindi con la lente che guarda verso il basso e quindi il supporto cd viene inserito nel senso contrario quindi con l'etichetta verso il basso come vedete così è il davanti e l'etichetta verso il basso adesso come prova inseriamo due cd nel nello scomparto 1 e nello scomparto 4 lo andiamo a posizionare nel caricatore il primo cd è già stato caricato si può iniziare la riproduzione presenta dei comandi abbastanza semplici e intuitivi il tasto di standby il tasto di espulsione del caricatore il tasto di ripetizione del singolo brano oppure dei cd che poi verranno proposti in sequenza il tasto di programmazione per poter scegliere l'ordine preferito non solo del brano all'interno del disco ma anche saltando da un disco all'altro qua c'è il tasto per selezionare il disco che si vuole far riprodurre e qui il salto traccia all'interno di un stesso cd il tasto di stop di play o di pausa di riproduzione casuale e l'highlight per far riprodurre un incipit di tutto di tutto quello che è il la libreria contenuta all'interno del caricatore andiamo a selezionare il cd 4 in quanto gli altri non sono stati inseriti la musica sarà la stessa in quanto sono due cd identici il tutto è più notabile dal comodo terreno la vista posteriore è abbastanza semplice e intuitiva presenta infatti solamente il doppio la doppia uscita del canale sinistro e destra analogico in sui connettori rca ovviamente con il cavo di alimentazione se questo video ti è piaciuto ti ricordo di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sui nuovi arrivi di lasciare un commento se ti fa piacere a me lo farebbe molto per capire se se vuoi un qualche se hai qualche suggerimento se vuoi darmi qualche consiglio o se vuoi qualche consiglio e siamo anche un negozio fisico il sito in provincia di trento a vere della luna aperti su appuntamento potete contattarci e attraverso il sito stesso trovate la indicato l'indirizzo email c'è anche una chat box o altrimenti e comodamente attraverso whatsapp grazie e alla prossima occasione ciao 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 ciao